Tra le montagne a nord dell'Albania, un paese che si vede a occhio nudo dalle coste della Puglia, quando non ci sono più maschi in famiglia, le donne nubili che non vogliono diventare suore, hanno una sola chance, barattare la loro virginità e diventare uomini. Un cambio di identità dove il sesso non c'entra e l'abito sociale che conta.